Ti tratterà come la sua priorità se farai queste tre cose. Allora, se tu sei una da parcheggio del cimitero, che riceve le briciole, che non riceve mai le giuste attenzioni, che un uomo non le dà, diciamo, non ti dà tutto quello che vorresti, allora devi imparare a fare delle cose diverse. Questo, te lo posso garantire, è un passo fondamentale. Imparare a trasformare, a trasformare la tua vita, a cambiarla, a renderla una vita degna, da un certo punto di vista, di essere vissuta. Quindi devi imparare a diventare la sua priorità. E ci sono tre cose fondamentali che devi imparare a fare affinché questo accada. Perché se non fai queste cose, beh, difficilmente riuscirai a ottenere i risultati che giustamente vorresti ottenere. Questo è un qualcosa che devi tenere presente. È fondamentale. Io posso dirti che nelle situazioni in cui noi ci lasciamo andare e restiamo coinvolti, purtroppo il problema vero è quello, no? Rimanere coinvolti con situazioni che non ti danno quello che poi tu veramente vorresti nella tua vita. Questo è il vero dramma di queste situazioni, perché se tu non avessi problemi non ci sarebbe nulla. È importante invece capire che devi fare delle cose se vuoi ottenere certi risultati. Ogni cosa che noi facciamo genera delle conseguenze. Allora, se vuoi diventare la priorità di una persona, devi fare questo. Prima cosa che devi fare è evitare assolutamente di essere bisognosa. Perché il problema è che le persone si sentono bisognose. Se tu ti senti una merda, se tu ti senti di non valere niente, se tu ti senti di essere una persona insicura, che ha sempre bisogno, diciamo così, di trovare qualcuno per stare bene, allora devi cambiare, devi partire da te, devi stare da sola. Fai un atto di coraggio, perché il modo più semplice per, diciamo, imparare a diventare la priorità di una persona è non avere timore di mandarla a fare in culo. Questo sembra strano, ma è così. Inizia a mandarla a fanculo. Quando non fa quello che tu vuoi, dirgli, caro tizio, va a fanculo. Ma proprio così, devi assolutamente fottertene. E poi, dopo il va a fanculo, che ovviamente lui proietterà delle cose, perché se tu sei stata sempre buona, brava, accondiscendente, nel momento in cui lo mandi a fanculo, inizierà a pensare, forse c'è qualcosa che ho fatto, ma anche se non ci teneva a te per qualche motivo, non importa questo. La cosa importante è che se non ci teneva a te, come dire, inizierà a tenerci, perché il rifiuto col va a fanculo dei è un rifiuto molto importante, che gli darà una scossa, gli darà una mossa. Quindi, prima cosa, va a fanculo dei. Seconda cosa, va a fanculo dei, sempre, ti rafforzerà, ti rafforzerà, perché dimostrerà a te stessa e all'universo, diciamo così, che non hai bisogno di questa persona. E un'altra cosa che devi fare, oltre al va a fanculo dei, la seconda cosa, è quello di concentrarti sulle tue passioni. Cioè, devi tenere la mente impegnata. Non devi impedire alla tua mente di pensare a questa persona, perché se tu non impedisci la tua mente di pensare a questa persona, ce l'hai in quel posto, perché sarai sempre, diciamo, all'inseguimento. E purtroppo è un qualcosa che succede, no? Quindi questo devi imparare a farlo. E ti posso garantire che è una cosa veramente importante, è una cosa veramente fondamentale nella vita delle persone. È veramente la base questa, perché se non riesci a fare questo, non riesci a ottenere nessun risultato. E la terza cosa molto importante che devi fare per raggiungere i risultati che devi raggiungere, che vuoi raggiungere, è quella di distaccarti completamente, creare un distacco dal risultato e mettere degli antagonisti. Nel momento in cui metti gli antagonisti, riuscirai a raggiungere tranquillamente tutti i risultati fondamentali della tua vita. Ecco, queste sono le cose importanti che devi fare per raggiungere questi risultati. Quindi fai queste tre cose e vedrai che lui ti metterà come priorità, perché diventerai prioritaria. Seguimi su Instagram, su TikTok e sul canale YouTube, ovviamente Massimo Tremaschi, su tutti i miei canali YouTube. Ciao a tutti!